Saranno poco meno di 200.000 gli studenti che domani, 14 settembre, torneranno fra i banchi delle 10.000 classi e sezioni per 233 scuole della Regione Marche. Circa 1.000 studenti in meno dello scorso anno a fronte di un incremento di una settantina di classi e sezioni autorizzate. Ad attenderli ci saranno 22.800 docenti di materie disciplinari e di sostegno, di cui 4.900 insegnanti assunti a tempo determinati, pari al 21% del totale. Questi numeri della Regione, i numeri di Pesaro, parlano di 6.694 studenti che domani torneranno in scuole che rivedono una parvenza di normalità dopo le tante limitazioni da Covid-19. Novità per gli studenti, novità per gli spazi nelle scuole. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, ha annunciato ieri il reperimento di soluzioni interne al campus per sopperire alle nove aule mancanti per quello che riguarda Bramante Genga e Liceo Marconi. Alcune aule saranno ricavate temporaneamente negli spazi delle biblioteche. Grande novità per le scuole superiori sarà rivedere gli studenti rientrare all'Istituto Morselli, riqualificato dopo otto anni di porte sbarrate. Uno stabile che torna nella disponibilità del Liceo Mamiani. Morselli, che alla partenza avrà ancora qualche lacuna a livello di ritocchi dell'ultima ora, ma intanto si parte. E riparte anche l'agrario Cecchi, che porta ancora le ferite del raid vandalico di inizio agosto. La provincia si sta impegnando a ripristinare la situazione della scuola, che più di ogni altra beneficerà di fondi PNRR in arrivo. Cecchi, che dopo il pensionamento di Donatella Giuliani riparte col nuovo dirigente scolastico Riccardo Rossini. Una vita trascorsa Liceo Marconi, che da domani sarà affidato invece al nuovo preside Luca Mariantonio Testa. A livello di strutture, altra grande novità sarà quella della riapertura di Pesaro Studi in Viale Trieste, non solo per l'università, ma anche per il trasloco temporaneo della scuola media Dante Alighieri in vista della demolizione prevista in ottobre-novembre. È il primo passo per la totale ricostruzione della scuola media. Ma sono davvero tanti i lavori in corso o già finanziati da fondi PNRR, a partire dall'investimento da 600 mila euro sulla scuola di Viafermi che parte dell'istituto comprensivo Leopardi. Istituto che domani vedrà la presenza a Pesaro del direttore dell'ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti per la cerimonia inaugurale dell'anno didattico delle scuole marchigiane.